Area Relax, l'incanto sarà ai Murazzi dove già sold out e 100 posti disponibili per la proposta culturale e spettacolare che arriverà alla batteria San Felice sono andati esauriti in un paio di giorni. La guida Alessia Boscolonata porterà gli ospiti a conoscere una delle zone più antiche della città. La passeggiata si concluderà con un concerto all'interno dell'ex batteria e con uno spettacolo in cui il protagonista sarà il fuoco. Il concerto ai Murazzi sarà dei Murazzi Movie Quartet, una formazione composta da concertisti provenienti da tutto il Veneto con all'attivo concerti dalla Cina al Giappone, dall'Europa all'Australia. La sede di questo ensemble si trova proprio ai Murazzi, in uno tra gli ultimi edifici rimasti integri dalla fine dell'Ottocento. Per l'occasione si esibiranno i musiche di Ennio Morricone e Nino Rota, oltre che i musiche da Oscar. Il concerto sarà accompagnato dalle coreografie di fuoco di Giulia Brigato. Questo per quanto riguarda l'area relax zona Murazzi. In centro saranno confermate le animazioni con i mercatini, gli artisti di strada, i giochi e la musica. Negozi e locali saranno aperti per accogliere il pubblico che nelle prime due serate è giunto molto numeroso riempiendo le aree pedonalizzate. Negozi e locali saranno aperti per accogliere il pubblico che nelle prime due serate. Negozi e locali saranno aperti per accogliere il pubblico che nelle prime due serate.